Ciao ragazze, oggi il make up dedicato al segno zodiacale dei pesci questo make up mi sono ispirata a una vecchia emoticon che c'era su Snapchat non so se ve lo ricordate, comunque l'ho un po' personalizzata innanzitutto ho preso il mio white clown, non so se ve lo ricordate comunque un colore bianco cerone da trucco di scena e vado a creare tutta la mia base quindi vado a metterla su tutto l'occhio vedete, con un pennellino aiutandomi con dell'acqua per renderlo un po' più morbido da maneggiare e poi vado a creare questa coda di pesce, chiamiamola così e vado a riempire con il bianco questa base mi serve per rendere i colori molto più intensi dopo e creare delle sfumature un po' particolari vedete, vado a metterlo su tutta la parte non sono troppo precisa, nel senso che se ci sono alcune parti in cui è un po' striato o un po' più chiaro, ci sono striature, non mi interessa se invece dovete fare un bianco proprio intenso aspettate un po' che asciughi e poi date una seconda passata come vedete utilizzo sempre il mio pennellino e vado a mettere su tutto l'occhio vado a coprire anche un po' le sopracciglia in questo caso non vado a eliminarle, diciamo perché poi mi serviranno da linea guida per le sopracciglia, tra virgolette, finte e vado a metterlo anche sotto all'occhio state attenti a non mettere il colore troppo vicino all'occhio per non far andare il colore all'interno dell'occhio perché potrebbe bruciare e adesso vado a creare queste specie di squame, diamantini non so neanche come chiamarli un po' astratti sulla fronte e vado a creare una sorta di triangolo come vedete vado a metterli in modo tale che si vadano a espandere verso la fine della fronte non sono tutti uguali, non sono precisi ed è fatto apposta così perché per me le cose che fanno parte della natura, naturali non sono mai precise e quindi le faccio un po' a caso mettiamola così una volta fatto questo prendo la mia palette delle intensissime di Neve Cosmetic e vado a prendere il rosso e vado a fare appunto le mie sopracciglia la prima parte se avete delle sopracciglia troppo spesse potete andare a cancellarle prima quindi ad appiattirle utilizzando della colla oppure se ce le avete troppo fine nessun problema, basta ridisegnarle io ho una media intensità, chiamiamola così quindi vado a ridisegnare le mie vedete nella prima metà metto questo rosso bello intenso e poi nella seconda metà vado a mettere quello un po' più aranciato vedete, seguo comunque la linea mia delle sopracciglia ho messo l'aranciato in mezzo e poi il viola utilizzo sempre lo stesso pennellino che è un pennellino piccolo angolato e adesso sempre col viola vado a creare il mio eyeliner utilizzo sempre lo stesso perché comunque sono andata da un colore più chiaro verso un colore più scuro mentre se fate prima la parte più scura e poi quella più chiara vi consiglio appunto di cambiare pennello adesso prendo il blu sempre con un pennello a setole piatte questo qua è un po' più grande e vado a fare tutto l'occhio e vado a sfumare insieme al mio eyeliner ora sulla parte della coda, tra virgolette vado a sfumare un verde acqua, un azzurro e un blu vedete, vado a metterle diciamo a caso e vado a sfumarle con questo pennellino morbido vedete, le sfumature vengono belle intense e mi dà proprio l'idea dell'effetto del mare e vado a sfumare così anche se uscite leggermente dal bordo bianco non c'è nessun problema comunque l'effetto viene ancora più sfumato adesso come vedete sto aggiungendo del verde acqua per dargli un effetto ancora più marino io ora sempre con questo verde chiaro brillantinato vado a passarlo sui miei diamantini e ci aggiungo un po' di azzurro per dargli un po' di movimento e come avete visto sulla fronte l'ho fatto non solo sui diamantini ma anche sulla mia pelle normale proprio per andare a sfumare bene la zona ora ho utilizzato un blu prima col pennello e poi con una matita per creare una sorta di linee che ci sono sulla coda del pesce per capirci e poi semplicemente vado a mettere il fondotinta sul resto del viso e a fissarlo con una cipria e poi prendo il rosso sempre della stessa palette e vado a fare queste guance le faccio molto intense poi ovviamente le vado leggermente a sfumare anche con della cipria colorata in modo tale che vado a sfumarsi insieme al resto del make up ora riprendo il bianco e il mio pennellino e vado a creare questi punti luce sul contorno del mio make up come sempre non sono precisi questo qua l'ho sbavato leggermente quindi poi vado a... essendo un make up non troppo preciso anche se sbagliate come vedete potete rattoppare facilmente una volta fatto questo prendo sempre il bianco e lo vado a mettere sulle labbra in modo da renderle molto molto chiare perché poi andrò a utilizzare un rossetto che è quasi trasparente rosato, brillantinato e quindi voglio avere una base delle labbra molto molto chiara mentre sulle ciglia vado a mettere un mascara viola il mio solito Miss Manga della L'Oreal e niente, questo è il make up finito spero che vi sia piaciuto può essere una bella idea anche per qualche festa in maschera e fatemi sapere cosa ne pensate se avete consigli e ci vediamo al prossimo tutorial di make up ciao! Grazie a tutti!